Gli amici che mi seguono nei miei canali social, soprattutto quelli che mi seguono su SoundCloud dove pubblico i miei podcast che al contrario dei tre minuti grezzi sono abbastanza elaborati, richiedono abbastanza lavoro sia prima della registrazione che dopo la registrazione. Gli amici che mi seguono lì avranno notato che da un po' di tempo compaiono quelle che io chiamo le esplorazioni sull'oscurità, Exploration on Darkness. Ne ho pubblicato due, sto per pubblicare la terza. Di cosa si tratta? Si tratta appunto delle esplorazioni, delle riflessioni che sto facendo sul significato dell'oscurità e questo rientra all'interno di un progetto al quale sto collaborando con due cari amiche. Ancora non voglio scendere troppo nei dettagli, un po' per scaramanzia, un po' perché appunto stiamo adesso scrivendo il progetto e nelle sue fasi molto 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 iniziali e preliminari. Comunque è un progetto che se va avanti, così come ce lo siamo immaginate, ci permetterà di esplorare l'oscurità. Io ho iniziato queste mie piccole esplorazioni appunto con gli strumenti che ho a mia disposizione, quindi con l'audio e con i podcast. Nell'ambito di queste mie esplorazioni mi è capitato di chiedere ai miei amici cosa fosse per loro l'oscurità, quali fossero le immagini che vengono in mente quando si pensa alla parola oscurità. E i risultati sono stati incredibili perché effettivamente ci sono ventimila diversi modi di interpretare l'oscurità che per molti è proprio niente di triste, ma anzi fa pensare a momenti di relax, momenti di tranquillità, momenti che si trascorrono con gli amici quando non si lavora, quindi momenti di pace dedicati a se stessi. Anche io ho cominciato a riflettere sull'oscurità e ai diversi significati che gli vengono dati, anche dal punto di vista culturale, basti pensare al movimento dell'illuminismo, tutto completamente basato sul fatto che l'illuminismo arriva per disperdere l'oscurità che è intrinsecamente una cosa negativa. E invece da queste mie esplorazioni sempre di più viene fuori che è vero che l'oscurità può essere concepita e intesa come una forza negativa, però spesso l'oscurità è anche quella cosa che ci permette di stare tranquilli e di guardare dentro noi stessi.